Drastica riduzione degli spettatori negli stadi. E' questo ciò che si apprende dalle ultime discrezioni, dalle ultime veline che vengono rilasciate puntualmente dai nostri mezzi di formazione, che meriterebbero nel loro in complesso una serie analisi per come si sono comportate, per come hanno risposto all'imposizione di chi di finanze. Ma questo si sa, non è una novità. La professione che in una simpatica definizione avrebbe dovuto essere quella del cane da guardia del potere in realtà è diventato logicamente, dico logicamente perché non sono nato ieri, perché conosco se permettete mi allargo ma conosco un po' il mondo e so come vanno le cose, ebbene è diventato qualcun altro, una simpatica definizione, ha definito il cane del riporto del potere. Ma va bene, la questione è che basta solo sapere con chi è a che fare e cosa ti racconta per interpretarlo nel modo che ritieni migliore. Adesso si parla, dicevo, di drastica riduzione degli spettatori negli stadi. Qualche giorno fa, qualche ora fa, non lo so perché poi dovresti farlo di mestiere, quello di stare dietro a tutte le notizie relative alla situazione e io di certo il mio tempo prezioso non lo perdo dietro queste cose. Però mi arrivano le notifiche, leggo chiusura totale degli stadi, poi chiusura parziale, poi riduzione degli spettatori, eccetera. Ora, io non vi dirò ovviamente nulla riguardo a questioni che non siano più o meno legate al calcio perché non interessa credo nessuno e non è questa la sede per parlarne e ripeto a nessuno interessa la mia opinione su altre cose. Però quello che vorrei fare è un collegamento che magari può far riflettere qualcuno, può come dire lanciare anche un dibattito tra di noi. Il collegamento è tra quello che sta accadendo da un paio d'anni e quello che è accaduto nel mondo del calcio. Ho letto qualche mese fa un articolo scritto da, credo, un antropologo, anzi sicuramente un antropologo, non ricordo purtroppo il nome ma mi informo, è vero, lo recupero perché me lo sono salvato da qualche parte, ma al di là di chi l'ha detto che comunque è una persona della quale sono andato a cercare qualche informazione giusto per non cadere nella trappola di leggere delle cose scritte da cialtroni che vengono spacciate per verità assoluta e questo accade, chiaramente sia da un lato all'altro della storia nella quale ci troviamo tutti, a prescindere da questo, bisogna sempre verificare nei limiti del possibile, ma comunque c'è lo strumento, bisogna sempre verificare un po' chi dice cose. Ebbene, ho letto questo articolo che faceva un'analisi sul comportamento delle persone in relazione proprio al mondo del calcio, proprio al pallone inteso come divertimento e come distrazione. Partendo dal 2001, ricorderete gli avvenimenti nel giorno delle due torri, che in Europa si giocò la Champions League e ci fu tutto uno scandalo, ma il calcio non si fermò nemmeno a fronte di un evento tragico come quello. Adesso invece il calcio si è fermato o comunque continuano a fermarlo, continuano a manifestare una trasformazione nel ruolo che questo sport, che è lo sport nazionale da noi, ha sostegno di un certo tipo di cronaca, di narrazione, di sviluppo della storia. E cioè, mentre prima il calcio aveva la funzione di distrazione, cioè aveva la funzione di evasione mentale per le persone e di distrazione dal potere alle persone per cercare di, come dire, far sì che il calcio potesse oscurare in parte alcune trame, alcune opere, alcune manovre, adesso questa funzione qui non c'è più. Cioè, la narrazione, il racconto, la storia, ha bisogno che il calcio sia veicolo per un certo tipo di messaggio. Che poi questo messaggio sia giusto o sbagliato, non sta a me a dirlo. Ognuno ha la sua opinione e, ripeto, ognuno è da una parte o dall'altra della storia, sempre con la raccomandazione che io mi faccio, non certo a voi, che mi faccio io, di stare molto attento a quanto alzare il livello di separazione da una parte all'altra della storia, perché il pericolo di rimanere incastrati da un lato o dall'altro senza ragionare nel modo giusto è molto alto, quindi bisogna stare attenti e bisogna fare le cose sempre con la ragione. Però non serve più a quella cosa là, serve a quell'altra cosa. Cioè, si è svuotato del suo valore di distrazione ed è diventato veicolo di un certo tipo di messaggio. Perché? Perché se adesso mi dite che il problema sono i calciatori che non vogliono scendere a compromessi come ha fatto Djokovic, che non vogliono fare questa cosa qui, io alzo un po' il famoso sopracciglio e penso che c'è un cortocircuito nel racconto, se poi dopo continui a sospendere le partite, a rinviarle eccetera, no? Qualcosa non va, che qualcosa non va, credo che anche al più ortodosso da un lato della storia rispetto all'altro possa essersi reso conto che qualcosa non funziona. Ecco, io ho trovato questa cosa molto interessante proprio perché si è parlato tantissimo, per tanti anni ricorderete di come il calcio fosse il famoso circense, il pane circensi dei romani e fosse la distrazione del popolo affinché chi comanda potesse continuare a fare quello che doveva o voleva fare, che voleva e doveva fare. Adesso invece è cambiato e secondo me questa è una cosa alla quale va prestata molta attenzione, proprio perché siccome c'è una sorta di canale unico di trasmissione delle informazioni, dal quale se si esce si rischia di essere messi e catalogati da una parte all'altra della storia, perché poi il problema è che, ripeto, le persone intelligenti non sono da un lato o solo dall'altro, sono persone che riescono a muoversi attraverso come dire, attraverso un lato o l'altro a seconda della loro logica, del loro ragionamento, della loro situazione. Io credo che questo sia, ripeto, una cosa importante, una cosa da tenere a mente, una cosa che può in un certo senso cambiare anche la percezione di quello che sta accadendo e anche in futuro potrà cambiare la percezione dello sport in questo caso e nonostante tutto questo io trovo che sia una cosa molto triste e doversi ridurre a trasformare quella che è una passione, quello che è un amore, quello che è un intrattenimento, quello che è, come dire, che è più di un hobby in uno strumento politico che veicola un messaggio. Questa è una cosa molto triste, dal mio punto di vista anche molto pericolosa e, ripeto, tutto questo non ha niente a che vedere con la propria idea sulla situazione, non ha niente a che vedere con il fatto che uno sia di qua o di là della storia o che sia in mezzo, non ha niente a che vedere con tutto questo, è una questione proprio sociale, molto pericolosa perché poi, e chiudo, dal mio punto di vista i contorni di tutta questa situazione non sono pericolosi rispetto a quelli che vorrebbero mostrarci come due schieramenti o tre schieramenti o quattro schieramenti, ma è per una questione di futuro, è una questione proprio di concezione di un mondo che utilizza una cosa che è la più importante delle meno importanti per veicolare un messaggio politico, per veicolare un messaggio di consenso, per veicolare un qualcosa che dovrebbe essere affrontato, come penso io, con la massima serietà. Noi, pensate che noi cerchiamo di farlo qui, di parlare qui, con la massima serietà di una cosa come il calcio, quindi pensate un po' come vedo io l'approfondimento, l'analisi delle cose importanti davvero nella vita delle persone. Fatemi sapere che cosa ne pensate, la raccomandazione, altrimenti chiudo i commenti, è di non scadere, ovviamente per cui non si sta parlando, ripeto, della posizione che ognuno di noi ha assunto rispetto a una certa cosa, qui si sta parlando a un livello superiore. Vi prego di commentare in relazione a questo pensiero, perché non voglio entrare nel merito di niente, non è questo lo spazio, ma siccome questa cosa è legata alla nostra passione, mi sembrava interessante fare un approfondimento per condividerla con voi.